Ciao! Siamo a venerdì, venerdì 3 dicembre 2021. Allora, questa sera per alzarmi il tono emozionale ho deciso di fare un video dal tono emozionale alto, un video positivo, un video per dire che io sto bene e che desidero che lo siate anche voi e che stiate benissimo voi, anzi voglio che stiate anche meglio di me. L'obiettivo è quello di superare il maestro, mi viene a dire. Sebbene io non sia un maestro, io porto un messaggio, porto un messaggio ad ognuno di voi, ad ognuno che ascolta queste parole, arriva un messaggio. Questa sera il messaggio è un messaggio di forza, di convinzione, di fede, di protezione. Proteggi, proteggi il tuo organismo, proteggi il tuo tempio, proteggi la tua famiglia, proteggi la tua casa, proteggi la tua macchina, proteggi, prendi cura dei tuoi vestiti, delle tue scarpe, prendi cura delle tue abitudini, prendi cura di ciò che ami. E come puoi non amare ciò che è lì con te? Che sia una persona, che sia un oggetto, che sia un animale, se è con te lo devi solo amare, non puoi fare altrimenti. In caso contrario liberati, liberati da quell'oggetto, da quella persona? Sì, non lo voglio dire, però facciamoci una domanda. Fino a che punto l'altro o un oggetto è più importante di te? Fino a che punto? Fino al punto di perdere preziosi istanti che non torneranno mai più nella tua vita? Fino al punto di ammalarti? Fino al punto finale. No, metti un punto finale adesso a tutte quelle relazioni che sono malate, che sono corrotte dalle aspettative, corrotte dalle buone maniere, corrotte dalle buone credenze, corrotte dai buoni modi di fare, corrotte e inutili, se non per farti star male. Stare bene è un obbligo. Se sei qui è per star bene oppure per far star male qualcun d'altro, allora scegli tu, perché quando non stai bene tu fai star male chi ti sta vicino, allora decidi di stare bene. Poi forse i sintomi rimangono, ma tu senti che tu sei forte, che stai bene dentro di te, sei in pace, che sei andato a ripulire gli scheletri della tua esistenza. Hai fatto piazza pulita, con le esperienze dolorose, ma hai riconosciuto il loro insegnamento e oggi sei qua perché hai voglia di gridare a tutto il mondo. Questo è il mio messaggio, un messaggio di allegria, un messaggio di follia se vuoi, un messaggio che toccherà le tue cellule in profondità, un messaggio che reputo molto simpatico, molto positivo in questo periodo di cosa. Ma di cosa stiamo parlando da un paio d'anni a questa parte, ma non avete visto che stiamo dimenticando di vivere? La vita non sono parole ripetitive, ossessive, come quelle che vediamo ogni giorno attorno a noi. La vita è innovare, è cambiamento, la vita è fregarsene, come dice il caro Alberto Ferrarini, la vita è fregatene, ciao, via. Vero? Bravissimo questo Alberto Ferrarini, una grande anima, veramente lo adoro, una persona meravigliosa e non smetterò mai di citarlo nei miei video perché chi mi ama può solo amare anche Alberto. Sì, ne sono sicuro, è così che funziona. Allora Haug passa una bella serata, un buon weekend, noi ci rivediamo sicuramente settimana prossima, ed è già una grande certezza questa, vero? E già perché noi sappiamo quello che sarà settimana prossima, vero? Ci vediamo in questo momento, in questo video, questo te lo posso garantire. Allora, buon intenditore, vivi il qui e ora, vivi il momento presente, sii presente a te stesso. Buona giornata o buona serata a te. Grazie di avermi guardato fino alla fine per un nuovo inizio.